ciao amici sono molella l'8 marzo nella fantastica cornice della magnolta festeggeremo tutte le donne e se io sarò lì suonerò un po di musica per portarvi a stare bene insieme a dj angelo di radio number one quindi con tutti gli amici di radio number one quindi ci vediamo l'8 marzo 2020 chiaramente nella magnolta con molella la console vi aspetto ciao